Allora l'ordine che mi hanno dato a Federico, Magdaloni e Sandra. Grazie. Buongiorno a tutti, io direi che possiamo cominciare visto che abbiamo i minuti contati e quindi vorrei subito introdurre questo panel dedicato a fare rete e condividere per costruire comunità. Il termine comunità è sempre stato molto dibattuto e ancora oggi è oggetto di discussione in qualche modo di analisi anche dal punto di vista filosofico, ma la definizione che a me piace di più è quella del sociologo tedesco Ferdinand Tönnies che nel 1878 ha scritto un saggio che è rimasto nella storia della sociologia, Gemeinschaft und Gesellschaft. Gemeinschaft è la comunità dove ci sono dei valori condivisi, Gesellschaft è la società dove invece ci sono delle funzioni che sono in qualche modo tra loro intersecate e Tönnies faceva un confronto e quasi una contraddizione, diceva, esiste tra la comunità dove esiste un afflato, dove ci sono dei sentimenti comuni e invece la società dove i ruoli sono assolutamente funzionali come un organismo e una macchina. Noi qui vogliamo parlare di fare comunità, quindi di un incontro dove esistono anche valori comuni, affetti, dove c'è una comunanza di intenti e quanto sia importante fare rete. e abbiamo per questo tre persone che lavorano in questo senso in ambiti e con strumenti completamente diversi. Federico Bastiani è un collega giornalista ed è l'inventore di un progetto particolare che si chiama Social Street. Sandra Mori, General Legal Counsel di Coca-Cola Europe e presidente di Valore D, che è un'associazione di aziende nata nel 2009 da 15 aziende soltanto e oggi ne conta più di 150 e si propone il valore dell'inclusione con un'attenzione particolare alla valorizzazione del fattore donna e della capacità e dell'inclusione delle donne cercando di favorire e in qualche modo anche facilitare il lavoro delle donne che ancora oggi, soprattutto in Italia, sono gravate anche da grandi impegni ancora organizzativi e familiari. quindi welfare aziendale ma non solo, anche valorizzare le capacità delle donne spesso mortificate ancora. Gianni Maddaloni è cintura nera settimo dan di judo e fondatore di Star Judo Club Napoli. Per ciascuno di loro, al di là di questa definizione molto rapida perché ovviamente le parole sono calibrate, concise, ho chiesto a loro di presentarsi in un minuto per cercare di capire di più, attraverso le loro parole, la loro esperienza, chi sono e poi perché sono qua. Perché nel mondo del lavoro, nel mondo della socialità attraverso i nuovi media, nel mondo dello sport è possibile fare inclusione, fare progetti che hanno un valore e in qualche modo anche fare rete con altri. Cominciamo da te Gianni. Bene, allora prima di tutto buongiorno e grazie dell'invito perché credo che da questa sala io dovrò uscire con un'esperienza e arricchire la mia personalità. Io, più di parlare di me, vi faccio vedere un video che parlerà del miracolo dello sport, perché in Italia purtroppo siamo indietro come programmazione sportiva. Perché io intendo che lo sport debba stare nelle scuole, cominciando dai bambini delle scuole elementari. Perché lo sport insegna le regole e se si insegnano le regole sicuramente avremo meno delinquenti, meno obesi. Quindi risparmio sulla sanità, risparmio sulla giustizia, ma molti meno cretini nelle strade. Vediamo questo video. Qui è dove ho abitato io per dieci anni, nelle vele. Perché? Questo è mio figlio Marco, campione d'Europa, agente di penitenziaria, quindi nella squadra azzurra di giuro. Questo è mio figlio Pino, campione olimpico, medaglia d'oro a Sidney. Questi sono tutti campioni italiani, ragazzi di Scampia che si allenano sei volte a settimana per quattro ore al giorno, cercando l'eccellenza. Le periferie, basta un attimo per perderti. Qui è come lo zen di Palermo, come Corviale. Io da giovane abitavo qui a Rione Sanghetano e lì ho fatto le mie prime esperienze negative. E si comincia così, con renderti capo, con renderti importante facendo delle cose che non si possono fare. Poi ho trovato qualche amico che mi ha portato sulla giusta strada, la strada dello sport. Sono tanti anni che sto su questo territorio e ho dato a me un obiettivo ben preciso, quello di aiutare la mia gente. Qui mi sento proprio a casa, infatti il maestro per me è come il secondo padre. Io ero forse uno dei probabili, sai no, che succede in questa zona. Abbiamo introdotto Gianni Maddaloni e c'è moltissimo da dire. Non a caso sulla palestra di Scampia di Gianni sono stati fatti anche dei lavori teatrali, è stato fatto un film. Insomma, è oggetto di studio il suo laboratorio di costruzione di valori positivi in una realtà in cui spesso i ragazzi sono attratti da ben altro. Quindi poi ne parleremo insieme. Volevo invece con Federico Bastiani conoscere un po' la sua storia, la sua origine e questa curiosità per anche trasformare i social media che oggi sono considerati e sono visti sempre anche un po' come una demonizzazione, no? Come strumenti che allontanano le persone fisicamente. Invece tu sei riuscito a far incontrare le persone davvero? Esatto, grazie a tutti per essere qui. Beh sì, l'idea della Social Street in realtà non è proprio un progetto nato a tavolino, è stata una scommessa. Che cos'è? Prima ne parlavo prima con Gianni, diciamo, è una strada sociale, no? Dove si ricrea un senso di comunità partendo dal vicinato. Io personalmente sono nato in un piccolo paesino della Toscana di 7000 abitanti, nella mia strada ci si conosceva tutti. Se la sera avevi bisogno, non so, finivi il sale alle 10 di sera, suonavi al vicino e non avevi un problema, chiedere. Perché quando mi sono trasferito in una città dove i rapporti sociali sono molto più, c'è molta più diffidenza, c'è paura, se la stessa situazione si verifica in una grande città, per esempio se a me mi suonano a Bologna, ora no, ma prima, alle 10 di sera, magari dai un giro di mandata di chiave perché non aspetti nessuno, no? Prima chiedi chi è tu. Prima chiedi chi è tu, magari sì, magari, però magari... Prima di abrile. Quindi, niente, l'idea è tutto poi è iniziato nel settembre del 2013, quando io all'epoca avevo un bambino che aveva due anni. Adesso quanto ha? Adesso ne ha cinque, forse dopo ci ragioniamo, non volevo disturbarsi. Bene, bene, dopo conosceremo l'artefice. E quindi mia moglie è sudafricana, quindi non abbiamo parenti, io sono toscano, quindi a Bologna non avevamo una rete di relazione. Allora la domanda molto semplice è stata, ma in una strada di 400 metri, persone in cui incontri tutti i giorni, buongiorno, buonasera, ma è questo il tipo di relazione abituale, magari ci saranno altre famiglie, altri bambini. Però io uscivo la mattina alle sette, ritornavo la sera alle sette, quindi non vivevo la strada. Allora abbiamo detto, beh, proviamo a vedere se è possibile ricreare un senso di vicinato. Come facciamo? Oggi i social network sono abbastanza demonizzati, giustamente. Le tecnologie ci hanno allontanato, anche quando sono arrivato a Perugia, era tantissimo che non venivo, non trovavo l'albergo, ho acceso il GPS per trovare il posto, ma... Io non hai chiesto. Esatto. Fino a poco, magari... Un tempo si abbassava il finestrino. Si abbassava il finestrino e chiedevi, no? Quindi era più facile anche relazionarsi e conoscere con le persone. Oggi è tutto più, siamo molto più rigiditi, no? Nelle relazioni. C'è sulla Treccani una bellissima definizione di solitudine. Internet può avvicinare persone lontane, ma allontana le persone vicine. Perché spesso lo vedete anche in treno, ci sono le famiglie, ci sono mamma. Ognuno sta concentrato sul proprio smartphone ormai. Quindi il rischio è di utilizzare queste tecnologie per tenersi in contatto con persone che magari non conosciamo fisicamente e invece perdere di vista l'utilità che invece tu hai scoperto. Infatti il paradosso, se vuoi, è stato proprio questo. Utilizzare Facebook, che come dicevi tu serve per tenere relazioni fra persone che abitano a migliaia di chilometri di distanza, per mettere in contatto le persone che stanno a 15-20 metri di distanza. E per vedere di farsi conoscere e di socializzare. Posso fare anche tanti piccoli esempi. Quando ho aperto il primo gruppo... Ti facciamo dopo perché vorrei introdurre anche Sandra Mori. Allora, intanto vorrei ricordare che Facebook è nato proprio come un campus network e Zuckermann voleva sostanzialmente all'inizio mettere in rete gli studenti che stavano con lui ad Harvard. Quindi è nato un po' con questo principio. Poi si è steso oggi, conta addirittura 2 miliardi di utenti e più. Ma veniamo anche alla visione lavorativa e quindi la comunità all'interno di una grande azienda e una sinergia tra diverse aziende. Con Sandra Mori che ci spiega che cosa significa oggi fare inclusione sul mondo del lavoro. Grazie, grazie a tutti. Anch'io ho un'esperienza... Cioè parto praticamente da dove è partito lui perché abbiamo scoperto che in realtà siamo nati e cresciuti a circa 30 km di distanza. Perché anch'io vengo da un paesino della Toscana e ho un'esperienza, sì, principalmente di lavoro in grandi aziende. In realtà quello che io volevo far capire oggi è una cosa molto semplice. Quando uno pensa a un'azienda come Coca-Cola ma più o meno a tutte le grandi multinazionali immagina qualcosa che sta negli Stati Uniti che è molto grande, molto organizzato dove le persone sono numeri e fanno parte di questo grande mostro di questa grande organizzazione. In realtà io, l'esperienza che ho avuto io appunto io vengo da un paesino della Toscana sono veramente nessuno e nessuno nella mia famiglia aveva mai lavorato in un'azienda i miei genitori sono artigiani e ho scoperto che un'azienda come Coca-Cola porta le persone da tutte le parti del mondo non importa dove sei, di che nazionalità hai qual è la tua esperienza tu dentro un'azienda come la mia puoi diventare parte di una comunità una comunità bellissima che vede persone appunto come me che sono Toscana i miei colleghi che io gestisco la parte legale per l'Europa noi siamo 13, ognuno gestisce uno il marketing e con l'altro le pubbliche relazioni abbiamo 13 nazionalità diverse 13 storie diverse quindi Coca-Cola è un'azienda che fa inclusione proprio per il fatto stesso che è un'azienda all'interno del mondo e se uno poi va a vedere nelle realtà locali vede molto facilmente che noi che siamo in 207 paesi e questo ci tengo a dirlo siamo l'unica azienda al mondo che è dappertutto a parte i due paesi adesso che sono rimasti ancora sotto embargo totale però abbiamo delle aziende che stanno lì e lì, se io vado in Brasile nell'azienda brasiliana ci sono i colleghi che sono brasiliani e se vado in Sudafrica ci sono quelli sudafricani ma nessuno di loro pensa a se stesso come Coca-Cola ma pensa a se stesso come parte del mondo dove vivono e cerca di cambiare in meglio ovviamente il pezzettino di mondo dove vive questo poi però fa sì che essendo la mia un'azienda appunto davvero veramente multinazionale abbia anche forse un occhio un po' più attento per quelle che sono le esigenze non solo delle persone ma anche delle comunità e in questo caso, nel caso mio in particolare questa è l'esperienza mia ma tanti miei colleghi potrebbero raccontare delle storie molto simili io ho sempre avuto un grandissimo interesse per quella che era la tematica del lavoro femminile io ho sempre pensato che siccome io sono stata molto fortunata mi ritengo molto fortunata e lo dico a chiunque abbia voglia di ascoltarmi perché io ho avuto una carriera veramente molto bella molto lineare e non ho mai avuto le difficoltà che invece sento tantissime donne hanno nel loro percorso di carriera e a me nessuno mi ha mai discriminato per la maternità io ho due bambine a me nessuno mi ha mai discriminato perché ero italiana o perché forse il mio inglese non aveva un po' l'accento pisano come mi dicono sempre e quindi a un certo punto della mia vita ho detto ma senti delle storie che sono completamente diverse e quindi ho cominciato a pensare che forse era il caso di mettere un po' a frutto quella che è stata questa mia esperienza positiva e aiutare quelle che l'esperienza magari così positiva non ce l'ha quindi la presidenza di Valore D nasce come un servizio nasce come una voglia di restituire qualcosa e questo la mia azienda mi ha supportato perché la mia come ha detto giustamente Maria Coccetta è un'associazione d'aziende quindi non è che uno diventa presidente come individuo ma diventa presidente come espressione di un'azienda che è associata in questo caso Coca Cola associata a Valore D e questa associazione in qualche modo aiuta aiuta o supporta le aziende in un loro percorso di valorizzazione dei talenti femminili quindi la mia azienda mi ha permesso perché credetemi questa attività mi occupa tantissimo tempo è tempo che viene in qualche modo sottratto al lavoro però per la mia azienda è importante che io faccia questo non perché c'è un ritorno in particolare per lei c'è di sicuro ma perché è in qualche modo una missione forse missione è un parolone ma sicuramente è un'attività che permette a me attraverso la mia azienda che me lo permette di aiutare e di fare un'attività che poi va a beneficio di tantissime altre aziende e quindi ovviamente delle comunità perché poi le donne lavorano qui quindi è un evento ben investito investito per un progetto che è quello di valorizzare il talento femminile in modo trasversale e anche verticale speriamo sempre di più per permettere alle donne di esprimere la loro capacità e anche alla società di non privarsi delle qualità delle donne che spesso dimostrano di essere veramente molto dotate e anche molto capaci quindi grazie per questo impegno poi ne parleremo in modo più specifico vorrei tornare però al discorso dello sport come scuola di vita e non solo anche come un'occasione e nel caso della palestra di Maddaloni a Scampia un luogo di incontro salvifico rispetto alla strada dove ci sono tentazioni pericolose soprattutto per i giovani lo stesso Gianni Maddaloni a 16 anni ha avuto un momento un po' possiamo dirlo di sbandamento? sì ma prima di questo vorrei mettermi in linea con i miei amici relatori la signora Amori e l'amico Federico dicono delle cose che ci uniscono siamo diversi io sono cresciuto e vivo ancora tra 400.000 persone in uno spazio dove ce ne vanno 10.000 ma abbiamo le stesse modalità l'esigenza di dare quello che noi abbiamo dentro il senso dell'umanità di esprimere i propri valori e regalare le nostre esperienze ho sentito con attenzione Social Street una donna coraggiosa ma credo che la mia è simile alla storia anche se siamo in punti diversi io sono cresciuto in un rione popolare ultra popolare la mia infanzia ha avuto diciamo un'infanzia quella dei scugnizi napoletani o scugnizi periferici di tutte le città da Bari a Palermo a Milano a Torino dove tu devi dimostrare che sei il più forte devi dimostrare di essere più bravo poi alla fine trovi il compagno sbagliato al momento sbagliato cosa è? il compagno che ti può portare sulla cattiva strada un amico cattivo certo Pasquale che sul motorino mi induceva a correre e a non fermarmi all'alto dei carabinieri l'ho fatto se i carabinieri in quel momento avrebbero sparato era normale si poteva pensare a una rapina a qualcosa fui fortunato non spararono arrivai a casa perché ero molto veloce molto veloce molto furto mia mamma ecco la donna la forza della donna che è determinante nei secoli e nei secoli ancora oggi che può cambiare il destino di un uomo schiaffi a volontà schiaffi a calci mi portò nella caserma dei carabinieri a chiedere scusa perché non avevo fatto niente era solo un modo furbesco di scappare l'amico sbagliato mi stava inducendo sulla cattiva strada gli schiaffi di mia mamma la donna mi fecero capire che stavo sbagliando morì mio padre lì ci fu un cambio di situazione andai al lavoro facendo degli lavori umili non più il motorista che era il mio sogno fare il motorista d'auto dovetti abbandonare questo sogno e mi trovai a fare il muratore dopodiché Dio fu grande perché Dio esiste ebbi un posto di lavoro all'università di Napoli incontrai il mio maestro e mi innamorai del mio maestro era un uomo particolare e mi insegnò il judo non il judo come arte da combattimento ma le regole nacque Pino che poi è diventato il campione olimpico a solo due anni stava sulla materassina poi Laura la moglie di Clemente Russo Marco Maddaloni che avete visto e tutti i tanti e tanti altri figli che poi sono diventati i miei figli putativi cosa succede in questo momento il miracolo dello sport lo scugnizzo ecco perché io ci tengo particolarmente a questo progetto perché come è successo con me e come le donne sono forti con l'esempio della signora Mori è di Federico che riesce a mettere insieme come oggi tante persone non parlano più non si riesce nemmeno a dire più al tuo amato ti amo in diretta lo si dice con Whatsapp allora c'è una grande potenza nei social network come diceva Federico mettiamoci insieme facciamo le cose belle con il web facciamo capire quanto siamo forti grazie grazie Gianni grazie Gianni veramente ci ha fatto capire anche attraverso la sua esperienza personale quanto sia importante trovare un maestro un riferimento positivo si dice la resilienza il potere di una persona anche una sola che testimonia dei valori diversi rispetto a quelli da cui anche un giovane può essere attratto perché quello era il contesto e quelle sono le tentazioni facili veniamo a Federico perché Federico ha dato un esempio con la social street di via fondazza e è stato intervistato addirittura dal New York Times da lì c'è stata una proliferazione di social street non solo in Italia a Milano ce ne sono tantissime per esempio hanno addirittura inventato delle portinerie di quartiere che sono utilissime perché se tu non hai il portiere non sai quando ti arrivano i libri di Amazon effettivamente è importante saper dare un'indicazione e poi tutte quelle piccole cose tipo l'idraulico dove si trova la lavanderia gettone effettivamente hanno scoperto l'utilità di questa invenzione di Federico come è andata con il New York Times innanzitutto te l'aspettavi? no la storia del New York Times no era quel giorno che per l'altro l'inviate qua a Perugia ah sì la dovrei vedere ormai siete in contatto diretto sì ma no beh chiaramente allora questo progetto quando è nato questa idea diciamo chiamiamolo così non aveva alcuna aspettativa cioè io come ho detto prima l'obiettivo era trovare degli amichetti per mio figlio dei vicini di casa e altre famiglie con mia moglie giocavamo dicevo se conosciamo anche 15-20 persone è già un successo dopo tre anni sono qui a parlarne con te non avrei mai immaginato ce ne sono 500 quasi 200.000 persone che ne fanno parte e la parte forse più innovativa di questo progetto è stato il fatto che diciamo non sono stata non è minimamente coinvolta la parte economica quindi il social street non ci sono si basa su tutti i principi fondamentali la gratuità l'inclusività e la socialità disinteressata quindi tutto quello che tu hai detto prima gli esempi rientrano in uno schema più grande il fatto che tu inizi a conoscere il tuo vicino di casa ma non perché ho bisogno del mio vicino di casa semplicemente perché voglio sapere chi è il mio vicino di casa e posso costruire delle relazioni di fiducia e tutto questo come dicevo prima è nato grazie al social network all'inizio molte persone che si iscrivevano a questo gruppo persone che si erano appena trasferite dicevano devo scegliere il medico di famiglia vado alla ASL mi danno una lista di medici ma per me sono solo dei nomi avete qualcuno da consigliare e allora le persone iniziavano a scambiarsi delle informazioni su facebook poi queste persone siccome come dicevo prima mettono in contatto le persone che abitano a pochi metri di distanza quella persona che ieri ti ha dato un consiglio il giorno dopo ti dice ma tu sei quello che mi ha risposto vedo l'iconcina su facebook ma sei quello che mi ha dato il consiglio e allora cominciano a passare dal virtuale al reale queste sono piccole storie ma ci sono anche altre cose più per esempio nella nostra strada c'è un rifugiato politico che è ancora in attesa di avere lo status e molte persone lo vedono in strada ma uno di quei vicini di casa l'ha invitato e ha chiesto se gli faceva un piccolo lavoretto ha messo una foto su facebook di un lavoro che gli ha fatto in casa e tutte quelle persone che cominciavano a scrivere pensavano che magari fosse un mendicante invece era un artista famoso africano che aveva fatto un sacco di lavori e quindi questa persona è stata invitata anche da altre persone che l'ha invitata a cena quindi a volte è servita anche la conoscenza per andare oltre a quegli schemi quegli stereotipi dove tutti noi un po' ci autoghettizziamo ma ecco perché parlavo di inclusività perché ormai siamo abituati a pensare che so ma in generale noi diciamo in un discorso discriminante anche il giovane l'anziano l'estracomunitario l'italiano no per la società stridale ci sono i residenti di noi scherzosamente ci chiamavamo i fondaziani c'è qualcuno che si è fatto anche le magliette a Milano ci sono i Nolers per il nord Loreto sono fatte le magliette questa cosa scherzosa in realtà ha un significato più profondo è l'appartenenza cioè tu ti senti parte di una piccola comunità che è la strada di 400 metri e quello è l'unico montorno che tu hai quindi tu mi stai dicendo che in un mondo in cui dilaga la diffidenza e un po' la paura dell'altro c'è in realtà questo desiderio che si manifesta e poi si concretizza diventa qualcosa di proprio un bisogno di ritrovarsi nell'altro e senza nessun tornaconto concreto solo il piacere di un sorriso di una conoscenza reale e quindi ecco che qualcosa che noi demonizziamo come uno strumento freddo diventa in realtà il veicolo di qualcosa di molto caldo infatti faccio un'ultima cosa un'ottima osservazione è molto interessante vedere nei vari gruppi perché io li vedo un po' tutti a parte via fondazza è sempre bello mi dicono anche le persone con cui poi vado a parlare spesso io giro per l'Italia quando tu hai anche un problema una necessità un'angoscia che tu la comunichi già quello non è facile esporsi al vicino molte persone sono anche riservate però sapere che comunque sia c'è sempre una risposta magari non è la soluzione al tuo problema ma è una parola e quindi sapere che non sei da solo è un bel valore aggiunto quando vivi è un aiuto senz'altro grazie a Federica a Federico io voglio invece arrivare a Sandra Mori con un discorso che riguarda la comunità perché Coca Cola ha 130 anni in Italia c'è da 90 e ha sempre avuto un occhio molto attento a alcune manifestazioni importanti che si sono tenute cercando di sostenere per esempio mi viene in mente i Giffoni Film Festival la festa del Torrone a Cremona il festival dell'amicizia a Rimini perché voi credete nella comunità perché non è solo un modo di essere visibili mi pare che sia un modo di essere presenti anche attraverso una serie di iniziative che fate nelle scuole per esempio sul riciclo sul riuso dei materiali è un modo di creare comunità anche questo? ci sono tanti modi di fare comunità e si parla un sacco tanti di voi l'avranno sentito di impresa sociale quindi di un ruolo sociale delle imprese io non so se e quanto Coca Cola si inquadra dentro questo però io da quando sono lì sono 16 anni che lavoro in Coca Cola ho visto tantissime cose perché noi alla fine l'impresa non è nient'altro che un qualcosa che vive all'interno delle comunità e ci siamo noi la sede della nostra azienda è a Milano però ci sono quelli che sono i nostri bottigliatori che hanno sede in tantissimi posti in Italia dalla Sicilia al Veneto e le persone che lavorano lì sono persone delle comunità locali quindi si parla di tutte le imprese vivono all'interno della loro comunità poi la scelta è quanto contribuire secondo me diventa anche abbastanza inevitabile contribuire a quello che è la vita della comunità in cui uno lavora perché perché di fatto vivi lì e quindi tutti abbiamo un'aspirazione a vivere meglio essere più avere cose più interessanti o più stimolanti e quindi l'azienda diventa inevitabilmente parte di questo circolo virtuoso noi facciamo tantissime cose che di fatto non è che abbiano una grande visibilità proprio perché sono cose molto piccole come appunto la sponsorizzazione del Festival del Torrone è una ma abbiamo le sponsorizzazioni di una miriade di campetti di calcio però un episodio che mi è rimasto impresso perché mi ha toccato da vicino perché ci ho lavorato io Coca Cola aveva messo un padiglione all'Expo è stata una roba che da un punto di vista tecnico legale io sono stata malissimo su questo progetto perché è stato difficilissimo negoziare tutti i vari aspetti come doveva essere questo e quello un incubo è stato veramente da un punto di vista personale molto molto difficile poi siamo riusciti e poi ci avevano presentato tre progetti tre progetti che erano tutti e tre molto belli due erano proprio bellissimi il terzo un po' meno era più semplice però questo signore quest'architetto ci ha detto ragazzi questo qua è una cosa che poi voi potrete riutilizzare completamente ci potete fare qualcosa altro questo oggetto può rivivere gli altri anche perché le istruzioni erano che dovevano essere delle cose riutilizzabili però tutti avevano immaginato il concetto di riutilizzabilità nel modo come riciclo quindi materiali che si possono riciclare eccetera questo signore invece ci ha presentato una cosa che non era riciclabile ma proprio l'oggetto stesso era riciclabile con una funzione sociale quindi questo ci ha spiegato che questo aggeggio che era meno bello poteva essere riutilizzato per diventare una copertura per esempio di una struttura sportiva noi abbiamo detto però quindi abbiamo scelto quello che era meno grammo o meno bello l'abbiamo messa a Expo dopo l'abbiamo tolto e l'abbiamo piazzato paro paro in una quartiere di Milano è diventata adesso la copertura di un campo di basket non solo siccome in quel quartiere lì che non è uno dei più belli di Milano devo dire c'è poco quelli del quartiere forse perché sono lì dentro il tuo network c'è street milanese ma perché noi ci siamo anche impegnati a fare la manutenzione di questo di questo campo non è solo piazzare lì la copertura ma anche lo seguiamo vedete la vita che cresce esatto ma secondo voi noi lo possiamo utilizzare anche per fare delle scene di quartiere delle feste e quindi cose che esulano e questo è e questa cosa vive quindi questa cosa qua che nasce come partecipazione di Coca-Cola all'Expo in realtà poi ha un riflesso sulla vita di una comunità un quartiere di Milano magari si possono fare anche cose molto più grandi però Coca-Cola fa anche questa cosa qua io dico Coca-Cola ma se vi parlassi invece di Coca-Cola di Unilever di Johnson & Johnson sarebbe uguale perché tutte le aziende che dal punto di vista diciamo esterno sembrano questi mostri queste multinazionali cattivissime che ammazzano i bambini che fanno un sacco di cose in realtà poi sono nient'altro che delle imprese radicate sul territorio e se tu vuoi vivere in un territorio che tu ci voglia vivere da cittadino o che tu ci voglia vivere da lavoratore alla fine devi restituire perché sei lì cioè non hai un'altra scelta puoi decidere come farlo e ognuno lo fa noi lo facciamo in questo modo tante altre aziende lo fanno in modi diversi però è un dovere sociale è una bella testimonianza perché in effetti sotto un tendone si possono fare tante cose oltre al basket appunto le cene anche un'esposizione di lavori che vengono creati in quella zona e anche la palestra di Maddaloni non è un luogo dove solo si allenano i ragazzi e spesso diventano campioni è un luogo di incontro anche per le madri per esempio loro possono fermarsi e fare attività alternative per esempio imparare un ballo africano ho letto oppure possono incontrarsi e scambiarsi le proprie esperienze ho letto anche che la vostra quota associativa è di circa 20 euro al mese ma non tutti possono pagarle e quindi c'è chi è in difficoltà e tranquillamente continua a frequentare la palestra come ritrovate i fondi e chi vi aiuta e che tipo di connessioni positive avete con altre realtà che fanno questo genere di attività sociale sul territorio Gianni io credo che sia importante il piacere di dare come si diceva prima la signora Mori poi lo strumento ognuno deve dare ciò che sa fare senza rendersi ridicolo lo sport fa miracoli lo sport io credo che bisogna essere precisi sarò velocissimo con i tempi no no non ti preoccupare è importante però le storie se le devi raccontare le devi raccontare bene io mi muovo secondo il mio vissuto sono vissuto come ho detto prima se prendo in affido i detenuti ai servizi sociali sono arrivato a quota 130 adesso ne ho 12 ogni mattina vengono firmano le entrate e l'uscita si devono comportare bene quindi tu sei garante di questi ragazzi lo faccio diciamo diciamo il punto perché io ho perso un fratello a 23 anni in un OPG a Pozzo del Gotto a Barcellona in Sicilia perché non c'era posto nell'OPG di Aversa mio fratello soffriva di crisi depressiva dovuto alla morte di nostro padre io come ho detto prima io a 16 lui a 13 sapete quando un bambino maschio la femminuccia è più forte il maschietto nell'età adolescenziale è molto debole mio fratello ebbe una crisi depressiva non si è ripreso più praticamente i due amici che lo portarono a fare un furto erano minorenni andarono al tribunale di minorenni e furono giudicati diversamente mio fratello fu portato a Poggio Reale poi trasferito subito in Sicilia e morto in 7-8 giorni le cause non si sono mai sapute io immagino ecco perché aiuti i detenuti vi è chiaro questo? sì o no? è chiarissimo e si vogliono un sì della folla però sì o no? sì dobbiamo partecipare social street vero Federico? ecco perché faccio pagare 20 euro a lei e 20 euro a suo marito e i suoi cinque figli non li faccio pagare perché? prima di tutto perché vengono da una famiglia numerosa due è un periodo di crisi epocale della coscienza politica crisi epocale non ci sono più uomini e quindi c'è bisogno che i ragazzi perché l'inclusione sportiva vuol dire tutto avere una donna in palestra che si cura vedere il figlio vedere il figlio eppure il marito nel caso vuole fare due pesi o qualche altra cosa o stare seduti normalmente in palestra è una bella cosa perché faccio ambulatori gratuiti? perché il mio maestro è morto di melanoma voi sapete il melanoma preso a tempo non è niente e faccio prevenzione al tumore al seno attraverso la Lilt in palestra proprio dovuto a quell'esperienza della morte del mio maestro quindi i detenuti la famiglia la gente che viene a curarsi sono mie sofferenze e io non voglio che gli altri soffrono come ho sofferto io persone come me come la signora Mori Federico e tutte le persone che sono in questa sala esistono e questa è la nostra forza siamo semplicemente brave persone grazie grazie a Gianni per la sua testimonianza e sono sicura che le persone di cuore hanno in qualche modo interesse a sostenere un progetto che non è solo palestra ma è un progetto sul territorio che garantisce un'alternativa ma tu mi hai fatto un'altra domanda dove io che successe? non lo so ma possiamo trovare un altro micro no 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 diciamo che tu mi hai chiesto chi mi aiuta sì purtroppo la politica in questo periodo è in crisi di coscienza epocale pensano solo a litigare e non pensano alla gente ai giovani che vanno via dall'Italia sono purtroppo sei anni che la politica locale sia quella regionale che comunale da destra e da sinistra da sinistra a destra e quelli pure centrali che purtroppo non trovano una sinergia e questo purtroppo allontana la politica napoletana regionale e comunale da quelli che sono i reali problemi della povera gente di periferia le città metropolitane devono essere quelle periferiche non quelle centrali che già è morto il centro quindi noi abbiamo gli aiuti da persone come Giovanni Domenico Lepro ex procuratore capo di Napoli un uomo di 74 anni con la sua Napoli bene che ci fa del bene e quindi viviamo di carità e poi abbiamo i rotariani che io prima guardavo con un occhio di indifferenza pensavo che erano persone che avevano soldi che non avevano cuore invece mi devo ricredere che sono delle grandi persone e poi anche alcuni imprenditori come la Coca Cola non so chi poi comunque manda queste bibide ma le manda gradualmente e noi con quello facciamo energia purtroppo fin quanto la politica non prenderà potere di coscienza di cuore che penseranno che anche loro hanno dei figli e dei nipoti noi non potremmo fare niente grazie le difficoltà sono tantissime la burocrazia diventa opprimente per chi ha dei progetti di crescita e di veramente di riscatto sociale perché qui si tratta di dare delle opportunità alternative a ragazzi che veramente hanno soltanto degli esempi difficili vicino a loro e allora mi rivolgo a Federico Bastiani perché questa realtà questo strumento potentissimo che è internet questa rete che riesce a fare crowdfunding che si mette a disposizione anche di buone cause e anche di registi indipendenti che hanno una buona idea e quindi chiama raccolta le persone che si sentono coinvolte potrebbe essere un buon strumento per sostenere iniziative come la palestra di Gianni Maddaloni come tante altre realtà mi viene in mente Don Antonio nel quartiere sanità che ha fatto l'orchestra e che porta i ragazzi a fare le guide turistiche noi ci siamo seduti vicino siamo diventati come amici che ci conoscevamo da tanti anni vuol dire che quella signora Mori che abbiamo parlato prima a tavola mi sembrava che ecco social street però diciamolo napolitanamente stare insieme amma parla le brave guardate vi dico una cosa che i criminali basta che si sentono per il telefono si mettono subito d'accordo noi brava gente siamo un po' tosti adesso scopriamo lo strumento io chiedo aiuto a Federico Federico aiuta allora scambia chiama Federico Federico rispondi ma guarda ci sono tante storie che sono nate così spontaneamente e questa è la parte più bella forse della social street perché tutto quello che avviene parte dal basso non perché c'è qualcuno che dice ok facciamo quello e allora come funzionano di solito le organizzazioni le associazioni ci sono anche piccole storie che per esempio anche a Milano quando c'è stato un incendio in una strada di Milano mi sfugge il nome ho segnato qui aspetta dovrebbe essere via Brioschi brava brava quando è stato quell'incendio proprio che lì all'angolo di una social street e quando è successa questa tragedia con persone che erano sfollate è stato prima dell'intervento del comune tutti gli uti che sono arrivati dopo la social street è stato il primo punto di riferimento per dare una mano a quelle persone e se guardavo quella pagina in quei giorni era persone che dicevano guarda io sono fuori per un mese ho il mio appartamento puoi andare da questa persona a prendere la chiave e se non avete dove andare a persone che non si conoscevano erano vicini di casa quindi un elemento pratico ma anche di conforto esattamente a parte poi l'aiuto ma al di là dei soldi proprio di vicinanza concreta di persone che c'era una persona che aveva un negozio che era andata a fuoco un'altra persona gli ha trovato uno spazio per riaprire subito l'attività senza dover quindi di fronte alla disperazione queste persone non erano sole non erano sole chi ha aperto la social street ha fatto un po' da moderatore di questa cosa perché per cercare perché chiaramente un minimo non è che tutto viene così magicamente ci vuole un po' di regia però ecco detto questo tu ti senti regista? ma guarda la cosa più bella che ho visto in questi anni è che io ho dato un buon esempio all'inizio e ora vedo che le cose vanno avanti per conto proprio le social street vivono di vita loro sì esatto perché non c'è un coordinamento non c'è una struttura non c'è un referente regionale c'è solo questa idea che ha entusiasmato molte persone e le persone lo replicano ancora oggi nascono spontaneamente quindi sicuramente per progetti come quelli di Gianni secondo me è molto semplice se trovi il coinvolgimento emotivo delle persone quello che può fare la rete è veramente incredibile l'ho avuto testimonianza in questi anni allora dopo Milano ci auguriamo che anche a Napoli nascano tante social street in grado di sostenere quando vedono le signore che parlano giusciulene sapete giusciulene che significa giusciulene allora parecchie danno fastidio a certi ma quella è così bella la cosa cioè che parlano donne tra di loro e risolvono i problemi tra di loro cioè non è una cosa negativa ecco perché dico usiamo internet in modo inclusivo inclusivo e su questo chiediamo anche un consiglio a Sandra Mori parliamo di donne perché no parliamo di donne che è un mio tema ma come valore di potremmo mettere un obiettivo su Napoli guardi allora stiamo facendo diverse cose quello che io volevo dire però è che il network delle donne è quello che ha fatto nascere valore di tante volte dicono che le donne non sanno fare network secondo me valore di è veramente l'esempio di come le donne sanno fare network in questo caso nel mondo del lavoro parte con nove aziende adesso sono 160 se voi vi immaginate tutte le più grandi aziende che ci sono in Italia perché su tutto il territorio ci sono cos'è che facciamo insieme facciamo un sacco di cose ma principalmente le aziende hanno un'opportunità di trovare un posto che è valore di dove scambiarsi le esperienze che funzionano e queste sono esperienze che sono alcune molto pratiche tutti gli strumenti di quello che viene adesso chiamato il lavoro agile la possibilità di dare a tutti i dipendenti non solo alle donne ma la possibilità di lavorare da casa di lavorare in modi diversi più flessibili che ti permettono un migliore bilanciamento nella vita familiare quindi c'è sicuramente la positività del fare comunità in questo caso una comunità d'aziende che però ha un obiettivo che è quello di aiutare le donne nelle loro carriere questo però ci ha portato a fare un altro ragionamento questo è recentissimo è una cosa di questi giorni dove abbiamo pensato ma quelle che verranno cioè noi sappiamo abbiamo questo osservatorio privilegiato dove vediamo che le aziende hanno bisogno di un determinato tipo di professionalità e che magari ci sono tantissime laureate tantissime ragazze che si laureano che ne so in giurisprudenza come me e non ci sono nessuna o pochissime che si laureano in ingegneria informatica e poi vedi che ci sono delle aziende nostre associate che ogni anno assumono 600 laureati in informatica che inevitabilmente questi 600 laureati in informatica sono la stragrande maggioranza uomini perché le ragazze non ci sono allora siamo andati abbiamo fatto un po' di ricerche e abbiamo capito una roba io credo che sia vera perché tutto quello che ho letto mi porta a pensare che lo sia ho interrogato anche le mie figlie e concordano sono un bello specchio noi abbiamo capito abbiamo visto che le ragazze si formano un'idea di un lavoro come maschile o femminile alla fine della scuola elementare all'inizio delle scuole medie cioè fino alla fine della scuola elementare le ragazze ti dicono i bimbi e le bimbe dicono io voglio fare che ne so il turbino il capotreno la ballerina o il ballerino indifferentemente alle medie questa cosa cambia e immediatamente ci sono dei lavori che non vengono più considerati dalle ragazze e altri mestieri che non vengono più considerati dai ragazzi perché si forma un qualche tipo di pregiudizio ovviamente inconscio che però esiste anche nei genitori esiste anche negli insegnanti quindi è culturale un modello culturale che viene tramandato che le porta a escludere completamente certi tipi di mestieri allora noi abbiamo detto ma se noi facciamo appello alle nostre donne ce ne abbiamo tante e le mandiamo noi nelle scuole medie perché abbiamo visto lì che è lì il problema dappertutto in tutta Italia a Napoli a Palermo dovunque esse vogliano andare noi raduniamo formiamo un gruppo tante donne chiunque è il libro lo guardate sul sito e trovate anche il modulo se vi va di partecipare a questa cosa io sarei ben contenta per andare per donare un'ora di tempo e andare in una scuola media e raccontare ai ragazzi perché lei è diventata quello che è diventata fa questo lavoro e quali sono state le difficoltà e quali sono magari anche adesso le difficoltà e abbiamo trovato adesso ho cominciato a reclutare le donne e abbiamo trovato tantissime donne tra interessanti cioè quella che fa appunto il capotreno che è un mestiale assolutamente maschile il pilota d'aereo piuttosto che la contadina piuttosto che il pompiere e adesso ho parlato ieri con una ragazza che mi ha chiamato e mi ha detto io anche voglio venire voglio venire questa di mestiere fa la paroliera scrive le canzoni avete mai pensato ci fossero le donne che scriveva le canzoni le cantautrici sì ma le paroliere quelle che scrivono quegli altri personalmente pensi sempre al paroliere non pensi mai alla paroliera invece lei fa la paroliera è pure famosa io non lo sapevo e quindi vogliamo andare a raccontare alle ragazze che se lo vogliono fare non c'è un mestiere femminile un mestiere maschile possono fare quello che vogliono io ricordo per tre anni ho seguito una manifestazione di cui Valore D ha sostenuto l'iniziativa si chiama Pink Cloud la nuvola rosa esatto perché le ragazze tendono a non iscriversi alle materie scientifiche all'università pensando appunto di non essere portate invece è assolutamente fondamentale anche se si sceglie un lavoro tecnico come quello dell'avvocato giurisprudenza avere delle cognizioni e delle competenze in materia informatica e strategica e rende la donna molto più competitiva anche sul mercato del lavoro e quindi spingere le materie STEM science technology engineering e mathematics è importante tra le ragazze perché culturalmente loro pensano di essere più portate per la parola e quindi anche l'insegnamento ma non è così ci sono degli esempi fantastici e oggi noi abbiamo anche un hashtag che è le donne di scienza e come giornalisti ci approvvigioniamo spesso perché abbiamo scoperto che la tendenza è sentire sempre i maschi come esperti adesso abbiamo l'opportunità grazie a questa piattaforma che è stata voluta da le giornaliste Giulia dall'associazione fondazione Bracco e dalle donne che hanno partecipato al festival della scienza a Genova in modo che là c'è un insieme di donne scienziate ricercatrici e rettrici di università che possono fungere questa ottima capacità di esatto non solo di esempio ma anche fare le esperte nelle trasmissioni nelle interviste e creare un modello positivo potrei anche far parte io di queste donne no figlia sì però dico questo perché per essere provocatorio io nella mia analisi dei miei primi 60 anni ho voluto donare il mio pensiero a mia mamma che mia mamma è stata la persona che mi ha dato l'educazione la forza della casa oppure della società è la donna allora per esempio io sentivo ecco perché devo uscire ricco da una cosa come questa io altrimenti che dico a scambia cosa ho fatto dico questo i bambini alle scuole elementari già hanno il pregiudizio a scambia no 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 questa è femmina della rete traduco sì questa è donna deve stare dietro lo ha lo primo io che sono maschietto sono quattro anni in questa scuola elementare che faccio questo percorso non progetto che i progetti sono destinati a fallire se non ci sono soldi i percorsi non falliscono perché cominciano a camminare sulle due gambe le bambine stanno davanti i maschietti stanno dietro chi sale prima sono le femmine e chi scende prima sono le donne i maschi vanno educati a cinque anni a quattro anni e fatti capire realmente chi è la forza credetemi grazie degli applausi però mi dovete credere è vero il femminicidio si è visto ormai da una decina d'anni così numeroso perché si sono persi i valori i valori i bambini vanno educati a cinque anni si fa capire veramente alla donna che cos'è quando dici vicino a un bambino chi è più forte nella casa mamma o papà dicono mamma chi ti ha generato mamma chi ti da a mangiare mamma mamma è debole no mamma è forte lui è consapevole di questo ma noi dobbiamo curare questa consapevolezza dell'amore tra la donna e l'uomo e la sinergia passa proprio attraverso l'inclusione delle donne che sanno fare comunità io credo che anche quando diventano leader sono delle leader più orizzontali sanno essere avvolgenti perché capiscono anche spesso il valore di un'emozione e sono in grado di in qualche modo ascoltare essere mamma è un valore aggiunto e questo è molto bello una bella testimonianza io vorrei che se ci sono delle domande mi fanno segno che così ah non era un'ora è qualcosa meno di un'ora allora speriamo di avervi dato degli elementi e degli spunti di riflessione e di anche di voglia di partecipare fare comunità e fare rete grazie grazie a tutti voi grazie grazie a tutti 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 Absolutely awfulness. We have a duty of care to protect the people that we are, you know, doing the lives with. Warn them of what to expect. Also explain to them, you know, what they should be wearing. If we were going to be doing a live with somebody on TV, we'd say, don't wear stripes. And, you know, we can see your legs, so make sure you've got proper shoes on or not your old flip-flops or whatever. Think how you're sitting. So we would tell people what to expect if they were going on telly. The same thing if you were going to be doing a live with them. Think about, you know, don't sit there looking at the camera like a scared rabbit in the headlights. Explain to somebody how they can relax in front of the camera. Explain to them how far this kind of information can travel and the impact that might have that their name will suddenly become popular. They might get abuse on social media. There are many, many considerations, you know. So we have a duty of care to our guests as well as to the presenters themselves. But be aware, there will be trolls, and you will get abuse. So how are you going to deal with it? Are you going to do any kind of, you know, blocking comments altogether? Or is there some way that you can somehow moderate the comments? Mark Frankel, social media editor for news, he said it was really interesting looking at some of the comments that come in on Facebook Lives, because you can see if people are enjoying it, there's loads of smiley faces and stuff. They might be putting smiley faces on inappropriate content, you know, smiling at something that's actually not smiley. But you can usually tell when the things are going downhill and people are losing interest because the angry faces turn up. So if you suddenly see the emojis, you know, the reactions are all changing, then you might be losing your audience, and perhaps it's time to wind it up a bit. So trolls, do think very carefully and have a strategy for dealing with moderating comments. And this isn't the place to sit and have a massively long discussion about how you do that. But it is incredibly important to warn people about how you're going to do it. The other thing, actually, while I'm on a T as well, T would also be trust in the spectre. You know, you've got that trust that you need to build with the audience. So I think, you know, how are you going to do that? And so if you mess up, fess up. Own up is the most important thing if you've made a mistake on something. And own it and say, I'm really sorry, I got that wrong. Here's the right information or whatever. There is evidence that if you have got something wrong and you've screwed up, people actually trust you more if you've owned up. So, you know, we can all make mistakes. So don't feel terrible about saying, oh, God, I'm sorry I got that wrong. Because we'll go, oh, okay, I trust you. You've owned up to it. But if you try and hide it, you're screwed. So that's the T for spectre. Sorry about the picture. Reputational risk is a massive thing if you're going to be going live. At best, you can bore the pants off your viewers. Oh, God, your viewers. Sorry, I've got to stop waving my arms around. So the best thing that could happen is that you would bore somebody. Well, that's not a good thing at all. You don't want to be boring people because they'll never come back. The worst thing that could happen, it could be defamation. You could end up in court. Something absolutely appalling might be said about somebody. You know, they may well go off on one about pedophiles. You know, you've got to be incredibly careful about what people might say. So reputational risk is a massive issue. Part of that will then come with knowing who you're talking to and, you know, briefing them all properly. But be aware that something really bad could happen and how you can prevent that. I'm just trying to think of things that have gone wrong in the past. Perhaps it's not worth, as it's being recorded, it's probably not worth mentioning some of those. This next one is a really big one. Emotional trauma. These are comments from some research that Claire and her colleagues have done about the impact, vicarious trauma, on looking at, you know, material on social media. So this is actually from the Bangkok bomb and the comments that came through from some of the people who are watching it. The point being, though, is you, on a breaking news situation in a bomb, you don't know what you're going to see. And as a journalist in the newsroom, I have seen these pictures and, believe me, you don't want to see them because you never unsee them. And part of the thing there is if you're unprepared, it's going to be far more psychologically damaging than if you think, right, I might see something bad. So it's perfectly okay to issue a health warning to say, we might be covering some sensitive content in this broadcast or some viewers might find it offensive or whatever. But this is one of the things why that guy in Nice made the right choice because there were, and there were, some horrific pictures. So he made absolutely the right choice. So think carefully about the impact that what you're showing might have on the person viewing it at home. You know, there's no watershed when you're doing live broadcasting. And you don't know if it's kids watching it from their bedrooms at home. And what you might find acceptable, somebody else might find totally unacceptable. But think of the emotional impact what you're showing to people might have on them. And prepare them for it or just cut it, you know, don't do that at all. So that's the things to think about. Before you press the live button, you've got to think Daniel Craig. No, not Daniel Craig. You've got to think of Spectre and then go through the... See, I don't even like Daniel Craig. But, yeah, think through the letters. And just as a little reminder, I always think it's helpful having an acronym because I can't remember anything. So I keep going S-B-E-C. What do I have got to remember? So those are the key points of what you have to think about that could go wrong. And I think now I'll hand over to... Well, I was just thinking, should we have some questions? And also we have Julian in the audience who goes live frequently on the streets of Paris. And you actually use live video with audiences to actually talk to them about fact-checking. So I'm sure there are people in the audience who actually do a lot of this. I think it might be worth... Yeah, come up and join us. ...sharing some examples or... Yeah, I mean, do you want to come up, Julian, just because of the mic... Oh, there's a microphone. It's just there. Can you put your hand up, Julian? Yeah, thank you. I should have listened to that speech six months ago because it's been six months that I'm doing live every week. And it took me six months to actually get to the same conclusions as you, pretty much. Well, I've got so many things to say about that. But one thing that happened to me, and that was a really good experience. I was doing a live on the streets about abortion and the right of women to do abortion, because there's a debate right now in front about it. And he talked about sharing your location. And on one side, of course, if you share your location, it's risky for you because people could come up and, well, sometimes, you know, beat you up. I thought about that because sometimes it's sensitive what I'm talking about. But this time, that was amazing because I was talking about abortion, and I was talking to people on the street about abortion to get their ideas. And at some point, there's a woman that was next to me, like, you know, three meters away, and she was listening on her iPhone. I could see, and she was looking at me and listening. And at some point, she came to me and said, well, I was at my place, and I was listening to your live. And I said, well, I have to come talk to you. And she was a nurse, and she had to do abortion on women all the time, and she wanted to talk about it on air. So she actually, you know, went to me. She took, I think it was a 10-minute subway ride, and it's a 45-minute live I'm doing every week. So she had time to come, and I ended up the show talking to someone that came to me, and that actually was an expert in the topic. And as a journalist, it's something that happened to you. It could never happen before. I mean, if you don't have Facebook, you don't do Facebook Live, it's an experience you will never have. And honestly, that was one of the best experiences I had in my life, because it's direct interaction, not only to the audience, but she actually came in real life to talk to me. So if you can do that, I think it's, wow. That's an amazing example. That's fantastic. Just because of your experience, you said it took you several months to, don't take it away just yet. Not just yet, sorry. Sorry, wait a second. Sorry. Just if there was anything else that you would add to stuff that I haven't mentioned, other tips for people, other things you've learned? Yeah, I think you mentioned something really important, which is suspense. That's something I'm working on, and it's really hard. Because in the live, things have to happen every five, ten minutes. If you're doing the same thing for five, ten minutes, unless you have like a horse head on this woman that was doing something really funny. But otherwise, things have to happen. And you're live, so live has to be prepared. You need to prepare things that may happen, and you have to make things happen. That's what I say. If you're filming a protest, and we're just filming the protest, and it works, and burning tires always work on Facebook, but that's not what I'm doing. You see what I mean? For me, I need to prepare, and for example, last time, I was talking about Apple and the way they don't pay taxes in France. It's a big issue. And I did that in front of an Apple store, and I was talking to people going out of the Apple store saying, well, what do you think? They're not paying taxes, and do you think it's right? They gave me their perspective on it. At some point, I said, well, of course it was prepared. And I said, I was with a woman that was an expert in tax evasion, and I said, well, let's get in the Apple store. Obviously, I knew I would be kicked out in a few minutes, but that was suspense, and people were like, oh, and the trend online, I could see people, whoo! I tripled the viewers. Just because I said, come on, let's do it, and they were waiting for me to go, I went in. I carried out the interview inside for five minutes. Obviously, I got kicked out, but I had time to say, well, Apple never answered a journalist on that, which was perfect, because they were kicking me out. And that was the best live I did in my, you know, it was, in the end, I had 700,000 people who watched the live. Wow. Which is the best live I've ever done. I've done much worse, many times. But this one was perfect, yeah. And do you think there are topics that you shouldn't be doing live, or that you think work better than others? I mean, thinking, actually, it's very brave doing a discussion on abortion, because it is such a divisive issue, that you could have had all sorts of anti-abortion protesters come and cause all kinds of trouble. I usually like sensitive issues to discuss, and I trust people to, well, of course, you tell them they're online and live on Facebook, and most of the time, you can handle it. So I think we shouldn't be too afraid of talking to people about anything. And, of course, if things go bad, and the guy is really aggressive, or really insulting, then you leave. And I had times, you know, I was on the street, and talking to people, and it was, like, this big black guy, like, really big, and he came to me and started, you know, shouting at me, insulting me, and I thought he would actually, you know, beat the shit out of me. And so I had to be cautious, and we are a team. I had two other people with me, which actually helps. If you're alone, I wouldn't do that. But with a team, it's okay, and I just, I was very polite, and I, you know, that's life. Any life is like that. You need to take the risk, I think. Absolutely. You were waving, yeah. Yeah, it was just, hello, I'm Ezra, I'm having a question, because you said, like, I knew I was going to be kicked out, so, and there, I'm wondering, isn't there a risk as well, that because suspense works, and effects work, that you start staging journalism? Like, you start creating effects, because you need every five minutes a spike, and something that happens, and before you know it, you're storytelling, and not, and storytelling in a bad way, but not in a journalistic way. So, it's just a question. Of course, of course. In that particular case, I think it was worth it, because I had sent many requests for interviews to Apple, and Apple told me that they had no spokesperson in France. We're probably a $1 billion market for them. It's huge, but they don't have anybody to talk about tax evasion in France. They only have people to talk about the new, you know, a new app or new things they're putting on the Apple Store. So, I thought that, as they didn't want to talk to me, it was fair to actually get in, and tell people, well, you don't want to talk to me, then I'm here anyway. And I agree with you, it's a case-per-case decision, and I wouldn't choose suspense over journalistic values, if you want. I do think it's a really interesting question, because in the first, I mean, we're only kind of a year since Facebook Live launched, and do you remember the New York Times kind of did an editorial meeting? And they kind of live-streamed their editorial meeting, and then it became quite clear that it was pretty staged, and there was a huge backlash. And I think you're right, as journalists, we have to think through exploding a watermelon or staging things. It doesn't mean that necessarily we shouldn't be doing them, but we should be much better about flagging what we're doing. It could be, we are recreating an editorial conference for you, but I think we have to be very careful about, because it feels so authentic, and because it's called live, it doesn't mean that we can't do interesting things with the medium. But I think now we're a year on, we have to be much more sophisticated about how we label this as journalists and how we use it. So, yeah, it's a really good question. I think you'll do a case study. I just wanted to say the one thing I don't think I've mentioned yet, is tell people you're doing it. You've got to promote, 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 you know, coming up at such and such a time. Otherwise, they won't know you're doing it. And make sure you've used the right kind of keywords, because that's how you'll get found. You know, if you're just saying, I'm going to go live, well, about what? Why should I care? So use the right kind of keywords as well to tell people, but they don't know if you don't tell them, so make sure you've promoted it. And again, there's a difference there, like Nick Christophe does a kind of a weekly live. I mean, you have a weekly show. Again, when we think about the different types of lives, I think there's something that's kind of the show quality about it, and the regular timing helps audiences know. But I think you've discussed this, Julian, but the tensions about having to tease long enough to get the audience to build, but if you're not interesting enough, you're going to lose the audience. It's a new type of video creation, and I think that's why, as an industry, we should be sharing best practices, because it's a new skill to just keep, you know, keep the audience engaged so that the algorithm can kick in. So, yes. So I'm aware of time. So this is kind of a depressing case study around Philando Castile video, but I think I want to use it as an example of how newsrooms should be thinking about this. So when the video played, I think you'll probably agree, but that opening line when she says, stay with me, and it's a double meaning of stay with me, please don't die, stay with me as an audience. To me, it's like a Shakespeare play. I mean, it's an incredible nine-minute video. So I wrote a piece of, I did some research about the video, because I just really wanted to understand how news organizations had used this particular video, and it's published on the site. But I actually looked at 23 different news outlets, and I looked at all of their online posts, including their own websites, as well as Facebook, Twitter, and Instagram, on July 7th and 8th of 2016, and found an extraordinary amount of content related to the video. There were, of course, more stories about the case, but these were just stories that included anything from that video that Diamond Reddles had published. And it was very interesting to see, I'm not sure how well you can see that slide, but the far end here, you have the New York Daily News, who published an enormous amount of content, over 25 stories on it, compared to Fusion, which, of course, takes stories around ethnic communities very seriously. They deliberately did very few stories, or they did stories, but they didn't include the visuals. And that difference of the choices made by editors about how to use that video was really the key to the research. So of the 229 stories, 45% used just a screenshot from the video. What do you think was the screenshot? Those of you who've seen the video, what was the dominant screenshot? Yeah. So this was the image that was used again and again. And what was interesting was comparing outlets around the world in terms of what they decided to blur. So in Europe, the fact that you can see blood on Philando's arm there is not something you saw from European outlets. Some European outlets basically blurred the whole of the image. American outlets were much less likely to blur the imagery. But this in itself, even talking to some audiences, I mean, I know you just laughed, Sue, when you did that, but people said as they were scrolling through Twitter to see an image of a gun through a car, for many people, editors might have said, well, it wasn't graphic, but actually it was pretty shocking. Apologies for this, but I just want to make this point. But the New York Times is the only organisation of the study that has a policy not to blur imagery. So they actually showed this, they chose this screenshot of Philando Castile, basically absolute moment of death. And for me to watch, we'll move on from this, but for me to see broadcasters and print outlets showing moment of death in a way that we would never have previously have done. And I think this question that you're hearing within newsrooms, which is, well, we have to show it because audiences have already seen it. And again, I think that's something as an industry we need to struggle with and question, because now we're seeing more graphic imagery than we've ever seen before. And certainly the torture, so-called torture video from Chicago in January, lots of that was blurred. But we are seeing footage now, we're seeing people committing suicide, we're seeing people being shot while they're going live. That's something that's very different to the things that Sue was talking about, but it's similar in the sense of we have a responsibility to decide what we show because of that. And then when we actually looked at how people used parts of the video, many outlets basically took elements from the nine minutes and created their own videos. Seven of the 23 outlets embedded the official Facebook Live video, some multiple times, and it was clearly a strategic decision for some people to actually show the whole video. And some people said, we can't tell this story without showing you the raw content, whereas other outlets were very much, it's our responsibility not to show you that content. But the last thing is, two new sites used scraped versions of the video, uploaded illegally by others, who then monetized it on YouTube, and then embedded that YouTube clip into their coverage. So, I mean, in the verification world, scraping is a real issue where content emerges on Instagram, gets copied onto Facebook, gets moved onto Twitter. But in this space, we really shouldn't be using other people's scrapes in our content. We should all know that, but we're still doing it. Secondly, in the U.S. content, it was unbelievable how many outlets were using pre-roll ads in front of the Philando Castile video. So the headline would be, fiancé live streams, partner's death, and you click on it, and it was a 30-second advertisement for paint from Home Depot. There's a bigger question here about, as outlets, we're making money off user-generated content, but in terms of this, particularly upsetting. And if you haven't read it, this was a piece that the Washington Post did two months afterwards, and they followed up with Diamond Reynolds. Remember, her piece was used, content from her piece was used globally by outlets, many of whom advertised against it, and she was forgotten immediately afterwards. And this was actually going back to talk to her about how she had to close down all of her social media accounts, what the impact was of this story, and the way that it was told through media outlets. And the most upsetting piece for me was, those of you who've seen the video know that her daughter was sitting on the back seat, and the daughter doesn't make a sound as all this happens. And Diamond Reynolds actually explains, these were some of the lessons Diamond had passed along from one generation to the next, and her daughter had learned them well. It's okay, mummy, I'm right here with you. Because she'd basically been told, never touch guns or needles, the more scared you are, the less noise you should make. And for me, this was a reminder of, this was a family that were impacted, that girl was in the back seat, and the amount of coverage we gave that video, and what that meant for that girl. And I know some people say, oh, Claire, you're not a journalist if you think like this. But just because we have access to this content, we have to absolutely say, this isn't just like the raw footage we'd get previously. There's much more to that. So, just finally, I do think inside your newsrooms, you need to be doing scenario planning around live video. And what I always say to newsrooms is, what would 9-11 look like today? What would you have done as a newsroom? You would have had live streams from people at the top of the towers. We had no idea those towers were going to collapse. What would we have been doing in terms of those live streams? And I would recommend any newsroom has that planning scenario session now, because we know, we've seen enough examples in the last year of the way that live video has played out. And we should know whether we have a policy to actually embed a video. Do we point to a video? Is it okay for the BBC to actually say, we're not going to show the video, but we will link out to somebody else's video? What does it mean when you get a really great live shot from somebody's phone? You can't get access yourself. It's a terrorist incident. But then 15 minutes in, the camera turns around and the guy says, I'm the person who committed this crime. In France, the terrorist who basically shot the French police officer and then his partner and the three-year-old. I mean, we already have some horrific examples. So, what's your policy on blurring imagery? What's your policy on graphic warnings? What's your policy on pre-roll ads? How would you choose screen grabs? How do you manage comments in real time? So, the other example was the Dallas shootings last summer. A number of Dallas Morning News reporters went live. And talking to the editor there, she said, we were so excited. We had this live technology. We had this big story. Reporters went live. What we didn't think through were the comments where people were actually saying, this is the guy who did it. He lives at this address. Here's his phone number. in the comments underneath the live streams during the Dallas morning, during the Dallas shooting. So, it's not just people giving you abuse in the comments. It's actually defamation. It's actually, you know, stuff that we as journalists have to think through. And live, at the moment, Facebook isn't giving us the technical solutions to turn off emojis or to turn off comments or to make it easier to moderate comments in real time. So, I know we just gave you a lot of information in a very short space of time. And some of it was quite depressing. But for me, there's lots that's great about live video. But I feel like we often get the great stuff about live video from Facebook themselves. I think, as an industry, we need to think through the other aspects of live video and to think through what we need to do. But does anybody have any last questions in our last five minutes? Very happy to answer them outside so the next lot can get set up if you like. Yes, because I have another session. But thank you. If there's no other questions, thank you very much indeed for coming. And good to see you. Grazie. 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 eted? Yeah. So the big question is should we start on time or not? I would suggest yes so let's go for it. Thanks for coming. We're going to talk with Sara about the Digital News Initiative Innovation Fund and we want to share with you the trends and learnings of the fund. So we will have two parts for this presentation. First part will be more about giving you tips for application and how to apply, explain you the application process and how the fund works and how is the fund framed within Digital News Initiative Framework. And I want to tell you upfront, if you are not aware already, that we've just, I mean just four weeks ago we've opened a new application window. This application window is open until April 20, so it means you have more than two weeks to continue working on your application or to start working on it and that would be okay. Okay, so I'm Ludovic Blecher, I'm the head of the Digital News Initiative Innovation Fund. Sarah is working with me at the fund team and we are both deeply involved into reviewing all the applications, having discussions and interactions with applicants. So, first thing is a question for you all, who has already applied to the fund? A lot. So you need to know more or you want to apply again? Okay, so at some point maybe I will ask you to explain also how you've been through the application process and to share a bit about the learnings from your side and your perspective because that can be useful for others. Other question, who has never applied and is willing to apply this time? That's good. We'll have a lot of work, Sarah. Excellent. So my suggestion is I explain you know the rules and criteria, I provide some tips, we stop for a Q&A, so we answer your specific questions and then we do a deep dive into the learnings and the trends, okay? So what we are doing basically with the fund is what our council member, Faye Dengler, CEO of NZZ, is calling kick-starting a research and development culture in the newsroom. And that's very important for us. I was a journalist, editor-in-chief of a newspaper in France, so forgive the accent. And I really know what is to be today in publisher's shoes. I know it's difficult. I know how it's difficult to manage change, to deal with culture, and to find the new recipes. So the aim of the fund is to give room, to test ideas, to be innovative. The fund is about innovation. To try to step back, brainstorm with the team, build a vision, and work through your ideas. But before talking about the fund specifically, I have to be very clear that digital news initiative is not just a fund. It's broader than that. It's a framework for dialogue with the news industry, and it's built upon three pillars. So we've launched this initiative about two years ago almost already, you know. And it's built upon three pillars. And those three pillars are really coming all together. That's our platform to engage the conversation, to try to understand better the needs, the concern of the publishers, and to try to come with, if not solution, ideas and options. So the first pillar is product. Our Google engineer can have and suggest products for the news industry that would help them to tackle the big challenges they are facing. Example of product is AMP, Accelerating Mobile Pages, or YouTube Embedded Player for Publisher. The second pillar is training and research. This is what the News Lab is doing with Newsroom, providing training to journalists to use Google trends, to use Google tools. And research is partnership we are having with the Reuters Institute that are doing a very in-depth report about the state of digital in the European news ecosystem. And the last pillar is innovation. Innovation is going through a fund, but innovation is broader than a fund. And innovation is something very complicated. How would you define innovation? No idea? You will have to explain why your project is innovative. I'm having the regular idea, but with a new perspective, with a regular idea. Like having the, wanting to explain something which is better or unknown, but from a different perspective or something from a different angle. I'm not interested in that. What's the idea? I guess I would have both new and useful. New and useful? If you have two different places, then it's already converted. So there are two concepts we try, or we've decided at the end of the day, not to define. The first one is innovation. The second one is quality, when we are talking about journalism. Guess why? Because it's too difficult. So innovation, we look at it more as a process. Innovation is a process. It depends on your starting point. It depends on the media landscape. It depends on where your company is. So explain why your project is innovative, but show us the process and how it can answer both industry needs and the user's consumptions of information. And quality, same, it's very hard to define. It's not the same for me and for you. So quality is more, we talk about original journalism, creation of exclusive stories and so. And same. All the processes. So the aim, the goal of the Digital News Initiative Innovation Forum is support and stimulate innovation in the news ecosystem. Stimulation is really the key word here. Over the next three years, so there are still two years to come, we've made available up to 150 million euros for projects that demonstrate new thinking in the practice of digital journalism and support the development of new business model. So stimulation is the first key word. That's very important. The second key word is project. We are not funding or supporting the broad digital agenda of a company or the whole company. We are not acting here as venture capital. We are funding specific projects. The project has to be specific. And you have to explain why. You have to define a clear perimeter for your project. And through the project, we are helping the company to think in a different way, to take risks, to test some things. That's why we are having three tracks. And, of course, we are very broad and open. So, before talking about the three tracks we are offering, let me talk about the eligibility. Everyone, basically, working in the European news ecosystem can apply to the firm. 32 countries are eligible to apply. And you can be an individual, a startup, a traditional publisher, a broadcaster. All can apply to the firm. You just need to have a legal entity established in European Union or IFTA. And we offer three tracks. The first one is called Prototypes. It's up to 50K funding for cutting-edge ideas with assumptions that has to be tested. This track is, again, up to 50K and we fund 100% of the project. Then we are having two other tracks. One is medium, the other one is large. For medium and large, it's open only to companies. Individuals cannot apply and companies should have at least one journalist staff. And for medium and large, it's co-funding. We are giving up to 70% of the overall cost of a project. And the recipient is bringing the 30%, the other part of it. Medium track is up to 300K funding. So, overall cost of the project are about 450K. And large track is up to 1 million euro. Okay? When you apply, you have basically two options. First one, applying for your company, a project focused on your company. Other option is to come with a collaborative project. And we really welcome collaborative project. Because that is part of the stimulation component. Collaboration, what does it mean? It can be a collaboration between a publisher and an academic. It can be a collaboration between different publishers at a local level or at a European level. It can be a collaboration with a startup. So, there are many kinds of collaborations. How do we assess the application? And that's something really important for you all. All applications are submitted online in English only. So, you go to the NI website. There is a phone section. You look at the application. You read the application. You look at the FAQ. Because we answer a lot of questions. And you start working on it. And with the team, we're going to review all applications. Look at everything. And make a first filter. And we're going to select applications that draw our attention for interviews. And we do a lot of interviews. Last time, we've done something like 300 interviews with applicants. And what we are looking for is impact on the news ecosystem. Explain us what does it have an impact. Why are you, with your project, tackling your challenge? And how are you tackling this challenge? Why it's innovative? Depending of where you are. Depending on what is the current context in your landscape. Or in the European one. And innovation, as someone said, can be about technology or not. Or part of it is technology. But it doesn't have to be 100% technological. And then we look at the feasibility, which is also very important. I would say the key word is consistency. You should be consistent between the parameter of the project, the size of the company, and how do you mitigate the risk. How do you make the proof that you can work on this project, you can afford your 30%? So, have a project that is consistent between the size of the company, the turnover of the company, and the idea itself. And we look at those three points. We make a first filter, and we start having interactions. Interactions is asking questions. We go in depth. And then we try to understand who is behind the project, who is the team, and why it's important for you to do that. When you send your application, an idea is great, but it's not enough. We need more. Go in depth. Give us KPIs, key performance indicator. Write a business plan. Just because, again, it shows the consistency. It shows the, 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 what kind of numbers you are using to build your project. What, what, what can be the scale and the traction of the project. You, you can also give mockups. You can just draw mockups and think about the user being in the user's shoes. So, round one and round two, we committed to have two rounds a year. Last year, we have two rounds, and we've received something like 200, 2,300 applications, right? First round was 100, 1,300, and second round, 850. We've shortlisted something like 600 applications, and at the end of the day, across the two rounds, we've selected 252 projects for 51 million euros across 27 countries. So, it's big. And, it's important for you to have in mind the main difference between round one and round two. We had less project round two, but much more in depth. So, the quality was really higher, round two, than round one, much better quality. And, 10% of the large project were collaborative project, which is part of the stimulation, and, and that was great to see that. And, even for medium, we had a much more collaborative project. So, we shortlisted much more project, even if we have less. Plus, we were able, for one, two, to select application for two more countries, which was also great. I want to give you a glimpse of the project that has been selected, if the video works. Let me see. Let me see. Oh. Oh. Yes. Give me that. But, the problem is the network, I think. You knew that. Okay. Okay. I apologize for the network. We're not going to spend time on that. That's good news, actually, because you will have to go on the website to look at it, so you will learn much more about the fund. So, before giving you the floor, maybe we can take some questions, right? So, do you have questions regarding the application process? Just to have in mind, it's closed on April the 20th. Applications are, in English only, submitted online. Spend time on our website, we don't take projects that are about training and education. Prototypes should last for one year. Medium and large can last for two years. Last round, we put a kind of focus on collaboration. It's still the case. And this time, we also kind of put a focus on monetization, which is very big issues. So, we are very happy to have projects that are more trying to tackle monetization issues and try to test things in there. I think it's done for the tips, no? Okay. Questions? So, if an organization is in collaborative projects with different partners, can that organization enter several projects into the process, or can each organization only apply for one project? Okay, so, the rule is one group, okay, let's frame it another way. It's one project per brand or per legal entity per round. But, if you have a group with many brands or many legal entities, you can submit three projects per round. Now, if you are working on a collaborative project, there is only one lead applicant that is applying, and acting as the umbrella for the others. So, the other can apply for another project. They are declared as collaborators, but they are totally free to apply to another project. Other questions? There. How would you, how difficult would you say that the application is in terms of technicals? Do you see companies applying through or with consultants to help them, like, more or less, what happens in Europe, for instance? Yeah. I do have to see people do that on occasion, but we've tried to make the application form as simple as possible. Anybody that's in the room that did successfully apply that wants to comment on that is very welcome. I don't think it's overly complicated. It does require a level of detail, but, no, we don't expect that you'd need a consultant in order to apply. It's not like that. It's very much at the first stage. What we want to see is the idea, and we want to understand the idea. From there, we kind of, once, if, providing we can assess that, we will often come back to you, and during the interview process that Ludo mentioned, where we talk to you face-to-face, we will go in-depth on your figures or who you are or anything that strikes us as a little bit, you know, difficult to comprehend about the thing. So, we hope we've made it easy. Did you have something to add to that? We don't need to have all the technical specifications. It's not about that. But we need to understand what will be the end product, what will be the outcome, and what are the opportunities. So, provide more KPIs than in-depth technical specification. Super. Thank you. Recipient. My name is Marco, and I'm one of the projects that got funded in the first round. And regarding the question, so we try to help other companies to apply, again, and what I can give you guys as a hint would be, don't write the application alone if you're a journalist, but write it with a team of developers together with a journalist, maybe together with a business-wise guy, because if you write together the application and you sum it up together, it's getting better. So, in my experience, the submissions that I saw that were only written by purely journalists are not likely to be that easy funded as the other ones where more professionalism came in. And that's where the application process in itself should be seen as an opportunity just to brainstorm and to take time for that. Be with others. Step back. Share ideas. Challenge your idea. Be challenged by others. Internal people, external people, from other teams. Then you build a vision. Then you look at this vision from a user perspective. And after that, you build a kind of magic recipe. And you start having a project that you would be proud of this project. And selected or not, at the end of the day, you have something that you want to move forward with. And for us, that's very important. This is the way we've tried to design the application process. We've got one at the back and one at the front. So, we have one, two, three, right? So, which kind of project time frames do you expect for the implementation? So, I'm just asking, you are looking for short terms implementation, medium terms, one year and a half, six months? Prototype should be one year maximum. Okay. Because the prototype should be fast. Yeah. It's about testing and learning from it. Medium and large, maximum two-year durations projects. Then, I mean, all along the way, you can have delayed. But that's another conversation we're having. And maybe I can take the opportunity to say two words about how it works when selected. And you start working on your project. So, first, don't start your project before being selected. Because we reimburse only expenses after a contract is signed. When a company is selected, we are having, again, interaction. And we try to define milestones together, different stages of the project. Then we sign a contract. When the contract is signed, we give 30% of the amount of funding offered up front. 30. 30. Then you can start working on it. And when you meet the first milestone, you have to send a report that explains the progress. And we discuss again. And we are checking also the financial evidence to make sure the money is going to the project. And then we have another milestone. And at the end of the day, a completion process. And all along the way, we are having discussion. Because innovation should go with flexibility. At the beginning, you think you're going to do option A, B, and C, and D. But you realize that it's better to do A, B, and C, plus, plus. Let's discuss that. If you have good argumentation, of course, we can give this flexibility. Plus, we offer you opportunity to feature your project, to talk about your project. Because this is also about sharing the learnings with others. Next question? Is there any kind of negative bias having won earlier applications regarding a campaign? Oh, you mean if you applied already? If I applied in one? No, the only negative bias is to apply with exactly the same application. So you should learn from it. Do you mean apply or do you mean apply and not receive it one round and then apply again? No, having won the first two rounds on big projects, applying again on another big project. Can you come back every round kind of thing? So, I mean, the challenge on that is having some new project that you require funding. But, yeah. Thanks. A question here, right? Hi, Arnie. Hi, Arnie. Hi, Arnie. Hi, just a quick question with regards to the medium-sized grants and collaboration. Do all the partners have to be European partners or would you... Because assuming that most of the work happens in Europe. You know, I've been asked this three times since I've been here in Frugia. So it's obviously a big issue. People who want to partner, say, with an American company or have an American thing involved. And there's not a problem with that at all. So long as the lead applicant is in Europe, so long as the project is to benefit the European ecosystem, and, you know, so long as things are flowing that way rather than into the U.S. So it neither helps nor hinders, actually, because they're just, you know, it's not a sort of relevant thing to us because we look at the European side of it. Okay, thanks. And the artwork should be done in Europe, right? Yeah. As I say, we want it to benefit the news ecosystem. So the money should be spent in Europe, should have European benefit, should have European person. Yeah. Question? I'm from Turkey, and in the map I see that it's cut from Greece. So you mean European Union, or? It's European Union and European Free Trade Association, so 32 European countries. We have a question there? There's one at the back. Yes, I have one question about the monetization. So is the creation of an open source project eligible for the funding or not? Sure. I would say also open source project is part of sharing, so we really welcome open source project, but why does it go with monetization? I mean, it can be open source and not go with monetization or the opposite way, no? Now, I was wondering if we have to provide a plan of monetization of the open source project, I don't know, as a service, or if the creation of the open source project itself, it's already fine. I'm struggling with it, but you have an open source project, and you want it to be monetized by others? So your question is to say, in itself, an open source project is bringing value because it's open source, right? No, the fact is that it's free. Yeah? No, I mean, if I create an open source project, I can also give it for free, so without a specific idea of monetization of it, so it is required to have an idea of how to monetize the project or not. Yeah. Sorry. Okay, so you have a project, and you'd be happy, because it's been funded, to give it away for free, because it would have greater benefit, and you don't want or need to make money from it. Is that where we're going? Yeah. Okay, but you think other people might make money from it? Or it's just for general good? No, it's the creation of the project that then can be also followed. So after the funding, it's possible to find other ways to fund it and to keep it alive. Okay, I think with something like that, I mean, the word monetization can be a bit difficult with kind of charities or NGOs and non-profits that are in this space and are eligible for the fund. So I would advise not to get too hung up on the word monetization, but instead have a look at how you can demonstrate that thing can be sustainable in the future without the Google funding, you know, so that there's a life after the funding finishes. And it also depends on the track. I mean, we are more looking at monetization for medium and large. Prototype is also about testing and researching and trying stuff, exploring new technologies. So do you require a stake in the finished product, a percentage of ownership, or it's not that kind of investment? That's a very quick answer. No, we don't take any equity. It's not investment funding. There is no IP share. Nothing. So it's... The project, and it's not about Google product. IP is yours. It's your project. Cool. Hi. I'd be curious to hear a bit more about how you organize yourselves on the judging side of things. I'm sorry if I missed that part in the beginning. Maybe you could just say how many people are involved. Were they from... Sure. Thank you. We can probably find you a nice slide of people's faces somewhere, but... Okay. They're on the website. Yeah. They're on the website. Okay. And basically, there's two sifts, but there's two stages for most things, okay? The first stage is applicable to everybody, however small, and that goes through what we call a project team. The project team is myself, Ludo, two other people who are not here at Parisia, but one in Germany, another one in the UK, and they're kind of the core Google team, if you like. And then there are three external assessors that are brought in for each round who change each round. And that's really important because we want to make sure that we can be kind of as fresh and not subject to influence and new networks and all the rest of it every time. So, every time, half the team is brand new to the whole thing. So, this year, say, we've got the core Google team, and then the three people that we brought in are one is knowledgeable about the Spanish publishing background, one the Dutch publishing background, and one the French publishing background. And they're all women for the first time. Little personal success, though. But it's important to understand, really, we have two bodies. One is the project team, and we review everything. The role of the project team is to make the selection of prototype and medium and all the interviews. For large, we make a short list, and then we produce recommendation that goes to a council. Council, same. It's a mix of 3% from Google and 10% from the industry. CEO, academics, head of press association coming from all across Europe. And it's all about diversity of view. And they are making the decision for large projects, and they kind of oversee the whole operations of the front. So we iterate the roles together, because we always say that we should be innovative ourself as well. So maybe we will iterate the roles all along the way. Yeah. So those large projects have that extra level of scrutiny to them. Okay. You said that for medium and large projects, it's mandatory to have a journalist on board. What if a core aspect of the project is on automation or algorithms, like robots taking over the journalist's role? So what if the journalist is a robot? Would that be okay? We need to have a human on staff, at least to train the robot. That needs to be a human journalist. Yeah. Okay. And there is something I think I didn't say that is important. We are not funding pure content creation. It cannot be just about content. You said you don't fund training and education, right? Yeah. Okay. And when the results will be communicated to the applicants? For this round? Yes. Oh, it should be early July. Early July. July. And that goes for successful and unsuccessful. So nobody hears the result until everybody hears the result. And what is the percentage between... of people and pride in questions? And there is a group that I can update the training of, they can travel. They can be in and say, they can manage their list and give up the list? I don't know. Be a good education which is itilit Have a lot of season. ever done in Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.